Piazza Dornore che è dolcissima, finalmente qui in un contesto internazionale come il VSK Final Cup per Tiago Vigacqua. Felice? Un po'. Come un po'? È tanto. Dai, primo podio internazionale, a questo punto si conclude al meglio questa stagione o hai qualche altro obiettivo per terminare ancora meglio questa stagione? E soprattutto qual è l'obiettivo e dove andrai, dove sbarcherai nel prossimo anno? No prossimo anno sto qua, go qua, bati un anno pio, al fine del prossimo anno vediamo cosa facciamo, non so, ma prossimo anno sicuro carta. Boca lupa. Grazie.